I carabinieri di Soverato e Davoli hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne pregiudicato residente nella provincia di Reggio Calabria con l'accusa di tentata estorsione. I militari dopo una telefonata giunta al 112 si sono recati in un esercizio commerciale nel centro di Soverato dove era stata segnalata la presenza di un uomo armato. Giunti tempestivamente sul posto i militari hanno accertato che poco prima il pregiudicato ostentando un coltello da macellaio dalla lama lunga 30 centimetri inserito nella cinta dei pantaloni e i suoi numerosi trascorsi giudiziari aveva preteso di ottenere gratis dei capi d'abbigliamento allontanandosi poi a piedi per le vie limitrofe. A questo punto attivate immediatamente le ricerche i militari hanno individuato l'uomo nei pressi della stazione ferroviaria disarmandolo e conducendolo in caserma. L'arrestato è stato portato nel carcere di Catanzaro Siano. Il tribunale di Catanzaro ha subito convalidato l'arresto.